Vedo una nave con grandi vele sull'albero maestro e dalla poppa pensola una canoa. Non è che la tua immaginazione quale nave può spingersi fin qui. Abbiamo tutti la febbre. È un'allucinazione. Si dice che questi sono segni che indicano l'approssimarsi della fine. Chiudi il becco, prete. Quella nave non è una visione. Con lei raggiungeremo il mare. No, Loppe di Ghirli. Io non verrò con te. Non lo vedi che stiamo morendo? Non c'è nessuna nave. Nessuna foresta. E nemmeno frecce. Le frecce le immaginiamo perché ci fanno paura. Bastardo, sono frecce vere queste! Sì, ma questa freccia non può farmi più niente. E questa non è pioggia. Prete, non dimenticarti di pregare, altrimenti il tuo Dio... ...te la farà pagare cara. ...e che non è che sia un paile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.